Salve a tutti ragazzi Rieccomi dopo un po' di tempo su una nuova mappa zombie Questa qui in realtà non è stata rilasciata ufficialmente Ma sono riuscito a farmela avere Questa mappa alcuni di voi Cioè non alcuni di voi, molti di voi la riconosceranno Perché è Summit, Summit in zombie Però si chiama Nazi Zombie Sky Reserve E adesso incominciamo E ve la farò vedere per beni Questa mappa inoltre ha un segretuccio Che vorrei vedere se è solo quello Oppure non ve lo rivelerò adesso Ma ve lo farò, vedi? Cerchiamo di fare una bella partita Cerchiamo di fare una bella partita E cerca di andare avanti Caricamento in corso di merda Altrimenti taglio questa parte In mezzo che la taglio Mi sta rotto il pionio Oh Questa è una mappa del OGX E quindi mi dice di scegliere una modalità Faccio classico Tempo di gameplay no Obiettivi disabilitanti Iniziali Eccomi Che beeeen Powered by OGX Monarch version 1.0 Oh Vediamo, qui c'è una porta da 2000 Io ho solamente aperto fuori questa mappa Quando l'ho giocata Prima di fare il video Ho aperto qui fuori Vediti com'è figo C'è la Niddy Si vede che è summit comunque 1500 La scopriremo per bene questa mappa Ci sono le armi T-Cod 4 Bellissimo Un po' di originalità Oh Come è un po' di originalità Bomb, bomb Bomb, bomb Zombie Metti la mano È morto He is dead Lui è morto Dai zombie dai Metti la mano dai Oh Oh Dove va? È morto Perché è morto? Dai Metti la mano Papà Ecco Bomb, come è morto Mamma Ripariamo un po' la finestra Guardate che bello la montagna La montagna Siamo in montagna Fa freddo Fa molto freddo Qui abbiamo un bello qui crevato Arrivano gli zoni Oh e qua c'è un ciccio bello Che è sfondato da nulla Non da dove Uh anche questo Oh 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 Cos'è solo Sistono 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 Kateri Porti in un caffè Me lo faccio io Volevaccio Non c'ho risultati Lo zoni Sono Sistono Sistono Qua c'è qua Cosa c'è qua? Almeno Cosa c'è qua? Almeno L'M 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 P Sistono Crasse di pistolare a pensavo a sistemare apremo fuori un po' di po' un po' show un po' uscio posto che bella un'albero niva tu l'albero di nata no questo è l'albero minore allo uno strato e anche il tuo bambino testo bastardo morti tutti quanti andiamo di qua ah di qua 1500 avventura sta guarda guarda un poco eppure mi serve dove p o la vado a prendere da dentro oppure o le me nove o il g3 ok no ma un po' di roma non ho visto la potenza l'ultimo non è vangata però ho perso dei bari o perso morto perchè non mi sono mosso non mi sono mosso bene nasce muore il cielo e adesso compriamo il reddito eeeh e poi e poi che faccio qui oh 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 di nuovo ha bottostato dove sta disgazza? ah ah ina 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 ah che mio ho già finito eh? cosa? costa 3.000 no 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 3.000 che bastardo che bastardo 3.000 ma no tu erico poste i poverani munizioni no se pay Prendi un po' di queste stegrate Basta All'inferno Ho preso il per due Dove apriamo? Apriamo di qua Oppure no Abbiamo dentro Vediamo un po' com'è dentro No 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 Costa di meno qui 1500 Qui quando lo costa 1500 Oh 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 Muore 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 Oh l'MP5 ce l'ha giunta Speriamo che non mi vengono da dietro No 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 Basta No 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 Guarda un po' che c'è sta Guarda qua guarda qua Guarda qua No Da dietro mi sto for Bastardo di merda Fatevi un bello, fatevi... VATELE, VATELE, VATELE... VATELE, VATELE, VATELE... VATLELE , VATELE, VATELE VIA VATLELE, VIALE VIALELE VIALEU BRAVO, 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 BRAVO BRAVO BAMBINO AMERICANO HA undoubtedly COME�� 立ta ora OH eh? ho visto una zombie qua, è morto com'è possibile? vabbè dilemmo, compro o non compro? rimandi col G3C ah, 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 disgrazzati disgrazzati due di voi prima mi hanno mandato a te oh, mp5, fai il tuo dovine spaccato un po' di culo di gioco ma sta, dai, muore, muore, dai dai, dai apri di sei, sono apri di finocchio qua oh per due vado non mi dico che sono da qua, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico si apre il giaccaro, il giaccaro che gioca per due che è, gioca, 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 gioca gio, gioca, gioca co- gioca, gioca daio, un po' di strage dagli innocenti attento attenta, attenta a quei così rossi che fregano, frega, frega però il fatto è che come faccio del cleansję oh, no, 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 no no, no, no ma perché, ma che cares no mo proprio riavvia di bello mi ha rotto proprio le palle me l'ha rotto allora non devo sbagliare revive adesso avremo da un'altra parte abbiamo visto dov'è il giocatore ma io non posso assolutamente tollerare quello che è successo prima facciamo le cose con cano e b ebbene quello è morto questo sta per morire ho le palle dove trovo metti la mano e io te la gioco dai raga dai raga dai tu al culo bene elimina me 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 io voglio vedere che il cavolo c'è scordietro la porta numero e che sta ho fatto un appuntamento me apriva semplicemente quattro di muco no 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 usiamo le granate al meglio qua c'è un bel lincestero quello dei simps qui c'è uno zotto che mi ha colpito chi è che mi ha colpito c oh oh in piedi di stato in piedi ah 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 via cacchi di secolo allora giù io devo fare tutti quei punti facciani quindi come minimo questi vedi in questo modo brutale colpito dice oh mille punti che cosa posso prendere questo che devo fare il g3 no ce l'abbiamo il quadro il quadro il quadro arrivare almeno la cassa almeno la cassa non morì 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 si stermina di gioco amo tutti allora la cosa che frega di più di questa mappa è ci sono gli spammi che direi che è una mappa per comune è veramente ma veramente tosta negli spazi stretti eh come per esempio da dentro dove stavo prima dove stavo guardarmi attorno non c'è nessuno c'è qualche extracomunitario qua eh sono extracomunitario perchè sono tedesco eh eh non è che di stamattina le butanate non sono butanatine eh questo è morto c'è 107 colpi g3 che devo fare 2160 apriamo di più che no 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 pausa 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 eccomi ritornato Allora, qua cosa c'è? 1500 E qua? Iiii Guarda un po' qui chi c'è PHD Flopper Il PHD Flopper Bellissimo Qua invece Una ovovia Una ovovia Uh, è bello 1000 Apriamo qua Oh, cammina, cammina, cammina Nessuno tipo di gara Oh, po' Dai E dai Qua sopra 1500 No, apriamo quella da 1000 Dai, dai Dai, che porta fortuna Ho detto Che porta fortuna Ah, è qua, ma anche me ne ero accorto che stava la stamina Stamina Non mi dai punti, strano Numero free Ecco, la cassa Vediamo la luce Segui la luce Eh, è logico Ok, questo devo fare Sicuro O per qua Non l'ho visto Ma come è figa questa La 2000 Dove 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 D'altro 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 ecco che prende gli zombie in breve e poi gli spara una rapica di colpi ricarica velocemente arrivano anche i zombie i due li passecchi li passecchi li passecchi apre la porta oh prendere una parte ho preso una parte della corrente figo un rosacchiotto che ci fa? l'M1000 guarda un po' ma guarda un po' ah è qui che bella aria grande le cose spawnano mentre mi avvicino ah 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 vedi un po' guarda speedcola una scala spartana fatta male un po' male e quindi qui ci sono altre porte non si aprono acqua spazio spazio questo è quella dall'altro lato che il costo milice o un sas un cos'interessa però io vorrei la cassa come si fa a dare di là eccola eccola vado no 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 via di qui via di qui via di qui pulto servono ah ecco mi dicevo io da lontano sembra aperta acqua ma guarda un po' le stranezze della vita quindi qua dietro so che sta la neve e qua invece che sta la stanza però devo fare duemila per aprire la porta che sta la sopra ma il vero dilemma beh ce la farò mi sa che non ce la faccio perché non credo nelle mie no possibilità ma armi nelle mie armi cosa tremita come faccio un altro sacchiotto di sotterrato ho ho Oh oh naena mia via fuori dalle vuole c'è un uomo zombie si sente l'umore ma non si sente do non si vede vai oh eccola ah ci sono cioè compagnia oh 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 scuola scuola sei calmo e and the body uno sacchetto td via 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 sì dai con la pistola con la pistola vai 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 sì ricarico attira la granata dove pensa che vanno a finire almeno due due sì qua si può girare bene 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 molto bene molto bene gironata la granata dove pensa che vanno quei due nomi vediamo sì già vanno un grande è un grande e palla in terza persona bom sì sì ancora va bene ancora va bene sì sale su sale su sale su sale su è qua cosa stanno a fare cosa sta facendo qua da dove sbucano che cosa sta che chi erano qua dove sono andati cosa c'è qui eh oh quasi cade giù non lo dicevi si cade giù si esce fuori dalla mappa veramente inizio diamo un'arma ho guardato un po' l'usas che ho tanto desiderato cosa c'è la pistola raggi 2 la mark 2 vediamo se gli piace che ho fatto ah bello il suo bello il suo prenditi stop chi si sa c'è il pacca un 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 aug non mi sono fatto male il nome dell'altro o non sono nemmeno in giù a 1 a 1 di qua si apri mille si di qua si apri si cosa che cosa sapete che questa non è una mappa rifinita alla perfizione sono uscito ad aprire la mappa senza mille punti sono un mago sono un mago dell'elettronica e il problema è dove si mette la corrente il dilemmo della vita oh dove credere a me ti immagini sono un mago e l'altro pure questo no 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 ma di una volta oh è bellissimo utilizzare ma bellissimo guarda un po' che c'è qui già vedendo il nostro amico amico la mia mano oh oh testi testi sbaglio mi punto no oh non sto in pressione ok 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 8 ok 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 Unfortunately qui con me sarebbe proprio sito la casa un po' di problemi di questo ma cialza questa bomba non Non guarda tutto da qui, non è bene, non ci si. Mori, gioco. Oh, e adesso, and now, apriamo qui, cosa c'è qua giù? Oh, mh, mh, mille punti. E qui dietro? Ah, si è ritorna qui. Però il paccapanja, avete visto? C'è. Il problema è la corrente. The power. Where is the power? Non c'è una... Ah, qua dentro! No, non si apre, non si apre, perché? Non è che... non c'è una cosa qui. Apriamo, apriamo di qui. Eh, no, e qua c'è il calcio del muo. Una macchina di caffè. Uno gioco. Uno gioco. Uno gioco. Uno... uno zaino. Me? E' di qui? Due mila. Misteri, irrisolti, misteri, bacchi. E qua dentro? 1500. 1500. Li faccio, apro là dentro e poi termini di video. Dove sta l'ultimo, dove sta l'ultimo, dove sta l'ultimo Oh, disgraziato, disgraziato Vedete, così devo stare a fare per voi Vedete Però l'Aug è mitico L'Aug è È da Da capo Capo indiano Aug No, è abbastante Sì È salvato all'ultimo da una botta Oh, che cos'è questo? Uh, qui si montano i pezzi Si montano i pezzi della corrente Se avete capito, eh Hai capito Vuoi scambiare Mark 2? Uh, no Quale è la Mark 2? Non è che uno scherzo Non è che uno scherzo Non è che uno scherzo È vero È vero È la Mark 2? Uh, che vero Ah, troppo paura Però non sarà mai come un Mark 2 realistiche Si vede un po' male l'abito mostro Mi ticchè E di là? Ah, di là? Sì Mi sono ricordato Comunque ragazzi Questa è una bella mappa Diventerà una bella mappa Al quando sarà Fin Io vi auguro che questo video vi sia piaciuto Ma siamo l'ultimo zombie E ciao